La quindicesima edizione Poi sono stata sua allieva, poi abbiamo fatto insieme le nazionali di pallavolo, qui siamo stati in continuo contatto. Questo premio è dedicato a lui ma soprattutto ad infondere nei ragazzini quello che lui ha insegnato a me, il senso di appartenenza alla propria città. Come lo farete e come verrà strutturato questo premio? Sì, praticamente questo premio è la conclusione dei progetti fatti nelle scuole, cioè andiamo nelle scuole che ai bambini diamo la bandiera in mano, cioè con la scusa della bandiera noi insegniamo la storia di Cava, poi li portiamo all'incontro col sindaco, poi intanto gli facciamo visitare Palazzo di Città e raccontiamo la storia della città. Questo premio è la conclusione, quindi questi bambini poi alla fine di questo percorso didattico hanno prodotto dei lavori, degli elaborati pittorici, delle relazioni, dei temi, delle ricerche, quindi prepariamo i migliori lavori, il miglior sbandilatore, il miglior musico di questo progetto. E poi c'è il premio Ginavella, premio Ginavella che noi diamo di un personaggio cavese che si è distinto nel campo della musica, dell'arte, del giornalismo, quest'anno tocchiamo la branca del giornalismo. C'è una riscoperta complessiva di tutti quelli che sono i valori, anche se vogliamo educazione civica, perché nelle scuole non c'è più, no? Sì, non c'è più educazione civica, ne approfittiamo anche per fare quello. È molto difficile, guarda, ti posso dire, qualche anno fa quando è iniziato questo percorso era molto più semplice entrare nelle scuole e insegnare ai bambini. È una generazione completamente diversa. Bisogna entrarci in punta di piedi, non darlo come insegnamento, più come gioco, come divertimento. Quindi nell'ambito della visita ci divertiamo a sederci nei banchi del Consiglio Comunale e spieghiamo il quadro di Totò e spieghiamo quando ci hanno dato il nome di città di Cavatirreni. Deve essere anche un motivo per fare educazione civica.